Dunque, a prescindere dal destino di Edoardo Vergani, arriverà un'altra punta. Salvo i previsti, sarà Cristian Tommasini, 25 anni di proprietà del Pisa, ultima stagione a Taranto, calciatore potente, forte di testa, incline ad attaccare lo spazio come vuole Zeman. Col Taranto, Tommasini ha segnato 8 reti, di cui 2 al Pescara in 31 presenze. Se si considera che lo scorso anno l'11 di Capuano ha realizzato appena 26 gol, secondo peggiore attacco dell'intera Serie C, lo scorre di Tommasini non è affatto male, anzi. In C l'ex Taranto ha collezionato circa 130 presenze, con le maglie di Pontedera, compagno di squadra di Milani, Paganese, Imolese e appunto Taranto. Delicarri ha raggiunto l'accordo con Fabrizio Ferrari, agente dell'attaccante già da una decina di giorni. Ciò che manca è la totale intesa col Pisa, a cui verrà riconosciuta una percentuale sull'eventuale rivendita futura di Tommasini. Non c'è una grande distanza, ma bisogna fare presto sull'attaccante. C'è il pressing di un paio di club, tra i quali il Catania. Indirittura d'arrivo la trattativa per il 2004 Antonino De Marco Mezzala del Vibonese. 26 presenze e 4 gol nell'ultimo campionato di Serie D. Oggi intanto alle 18, primo test per il rinnovato Pescara di Zeman, lo stadio Mastrangelo di Montesilvano. Lo sparring partner sarà la Vis Cerratina. Già ufficializzate le altre amichevoli con inizio alle 18 e tutte al Mastrangelo. Lunedì 24 luglio contro il Manopello, venerdì 28 luglio contro il Castrum Silvi, martedì 1 agosto contro il Francavilla 2015, team di promozione.